In un periodo in cui l'argomento più importante delle cronache e senza dubbio l'emergenza coronavirus non vanno però in vacanza gli incivili. Sono infatti quasi 200, ma anche altre segnalazioni sono già in arrivo, i furbetti responsabili di rifiuto selvaggio e immortalati dalle fototrappole disseminate nelle campagne della città di Andrea. Per tutti è scattata la sanzione da 500 euro per abbandono di rifiuti su suolo pubblico. Il nucleo di polizia ambientale del comando di polizia locale di Andrea ricevuti i report fotografici li ha identificati e sta inviando i provvedimenti amministrativi. Le rilevazioni fotografiche sono già centinaia e sono il frutto del monitoraggio su una serie di aree sensibili della città perché più utilizzate come discarica abusiva. Il monitoraggio è stato concordato con l'amministrazione straordinaria. Il fenomeno riguarda sia le immediate periferie che il territorio rurale ed il ricorso alle fototrappole è un'altra delle misure avviate già da tempo d'intesa con il corpo di polizia locale, anche per rispondere alle tante segnalazioni fatte dai cittadini per rifiuti abbandonati, roghi di rifiuti e aree deturpate. Le fototrappole si stanno rivelando molto utili e per questo l'amministrazione straordinaria vorrebbe intensificarne l'uso, visto il numero di denunce quotidiane pervenute a palazzo di città. Alcune delle foto poi riguardano i rifiuti ingombranti, dunque non semplici sacchetti.